10 settembre 1943. Le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma. Il controllo della città viene ottenuto con poco sforzo dai tedeschi, che devono solo piegare la generosa e sfortunata resistenza che patrioti male armati, affiancati da alcuni reparti dell'esercito italiano, oppongono a Porta San Paolo. Oltre alle deportazioni verso i lager nazisti, la città eterna, ufficialmente città aperta, fatisce l'orrore del lecidio delle fosse Ardeatino. Roma verrà liberata dagli alleati il 4 giugno 1944.